buongiorno allora oggi portiamo il sole non sei freddo stamattina già era molto freddo a me non mi avevo tanto freddo e chi c'è qua il pizzettino la nonna che ciappa l'aria l'aria fresca fresca la nonna che c'è la nonna che c'è l'aria fresca Grazie a tutti. Grazie a tutti.